Andiamo a farlo fuori, lo colpisco di lato, attenzione! Ascolti! Tenete duro, con il supporto aereo! Cazzo, sono venuto! La volante è all'inseguimento del sospetto. Centrale, ci serve l'accesso al sito est. Occhio alla strada! Provo ad andargli addosso! Lo strozzo ci ha seminati, restiamo in zona e lo troviamo! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!